Di nuovo luce verso la chiusa su Rachele Somaschini, pilota coraggio, l'abbiamo già ribatteggiata, sua sconfinata passione per le corse nei rally, nonostante faccia i conti dalla nascita con la fibrosi cistica, sindrome silente però impietosa ad insistere sull'apparato respiratorio. L'avevamo lasciata al rally di Monza, la ritroviamo in queste immagini alla sua prima volta in una prova di campionato mondiale, niente meno che al Monte Carlo, già a portare la macchina in fondo un successo anche per i piloti più esperti. Navigata da Sergio Marchetti, ottava di classe, sessantaduesima assoluta al traguardo Rachele, sempre a tutta, a fine marzo per lei, l'inizio della stagione tricolore col rally del ciocco. Ciamanico, la ragazza, senza mai dimenticare tra una curva e l'altra la causa per la quale quotidianamente si batte a sostegno della Fondazione per la lotta contro la fibrosi cistica. Nostri studi, ascoltiamola al microfono di Lorenzo Leonarduzzi. È stata più grande la gioia di partecipare al rally di Monte Carlo o quello di vedere il tagguardo? Ma entrambi perché diciamo che era il nostro obiettivo principale, quindi sicuramente già solo vedere il proprio nome nell'elenco iscritti è una gioia, anche solo quella. Poi riuscire a, tra virgolette, sopravvivere a tutte le insidie che un rally mondiale ti può riservare è stata una grande gioia. Il problema principale era sia la stanchezza fisica che però si annienta, tra virgolette, con l'adrenalina che hai durante i giorni di gara, ma soprattutto proprio il riposo è quasi azzerato, nel senso che ce n'è veramente poco e anche il tempo per fare la fisioterapia è veramente limitata, contando che normalmente ogni giorno devo fare dalle 3 alle 4 ore di fisioterapia respiratoria, diciamo che 3-4 ore ce l'avevamo solo per dormire, quindi è stata dura soprattutto questo fattore. Correre per un respiro, uno slogan che ormai è diventato una costante nella tua attività sportiva. Nella sfortuna sono stata un pochino più fortunata perché la malattia nel mio caso si è manifestata in modo meno aggressivo sin dalla nascita, mentre ci sono persone che a 24 anni hanno dovuto fare un trapianto bipolmonare e questo ovviamente ti crea una realtà che è ben diversa dalla mia. Sostenere la ricerca è fondamentale e soprattutto donarci una speranza di guarigione, perché ad oggi una cura non c'è e l'età media si aggira intorno ai 40 anni e questo deve cambiare. Sostenere la ricerca è fondamentale e questo deve cambiare.